E' ancora emergenza incendi, la regione dei numeri sul fuoco in Sardegna, molti rispetto agli anni scorsi, ma soccorsi più efficaci. La moda del tatuaggio, parte dal setter hotel di quarto, la convention dedicata al mondo dei tattoo, tre giorni all'insegna di musica, arte e moda. Alvia, Bab Bimbi a Bordo, presentata stamattina la settima edizione dell'Art Festival letterario dedicato ai bambini. Zona Franca, Vivere in carrozzina, seconda parte dedicata al giovane che è lemosi nei sedi a rotelle a Cagliari. I numeri della furia devastatrice del fuoco che si è abbattuta quest'anno sulla nostra isola ricordano purtroppo stagioni che credevamo esserci lasciati alle spalle. Per questo l'esecutivo a guida Solinas intende aprire, entro il 2023, la scuola della forestale. Non si ha ancora una visione generale d'insieme, ma ieri sono stati resi pubblici dalla stessa regione, Sardegna, i dati relativi al territorio di Nuoro. Gli incendi sono stati 153 dall'inizio dell'anno, se si allarga lo sguardo alla provincia, 46 di origine dolosa, 10 di origine colposa e 97 in fase di accertamento. Sono i dati forniti dalla regione nel corso del sopralluogo congiunto che ha visto impegnati nelle zone colpite dai roghi il corpo forestale, il sindaco di Nuoro Andrea Soddu, il genio civile sempre di Nuoro e i consiglieri regionali Pierluigi, Saiio e Giuseppe Talanas insieme agli assessori dei lavori pubblici Roberto Frongia e della difesa dell'ambiente Gianni Lampis, che hanno visitato appunto i luoghi lambiti dai roghi e fatto il punto sulle infrastrutture oggetto di finanziamento regionale sull'attività antincendio. Questa visita vuole significare non solo la vicinanza politica dell'organo esecutivo regionale di tutto il Consiglio a questa comunità, ma si inserisce all'interno di un percorso di presenza in tutto il territorio, ha detto l'assessore Lampis. Gli incendi che hanno riguardato Nuoro, divampati in prossimità del centro abitato, sono stati domati con tempestività e grazie a un'intensa azione di monitoraggio della macchina antincendio, effettuato in corso d'opera e per tutta la durata dell'emergenza. È stato possibile quindi scongiurare ulteriori rischi di danni e dovere della politica, ha continuato l'assessore all'ambiente, essere supporto concreto della comunità interessata e per questo oggi siamo a Nuoro, dove abbiamo visitato il centro operativo provinciale, la base elicotteristica di Farcana e l'area dove dovrà sorgere la nuova scuola della forestale, che rappresentano insieme al reclutamento del nuovo personale del corpo forestale, obiettivi di legislatura che questa giunta regionale intende proseguire. Vasta la pagina della cultura e degli spettacoli, in questo nostro telegiornale Bab Bimbi a Bordo avvia la settima edizione del festival letterario dedicato ai più piccoli, stamattina a Cagliari la presentazione Maurizio Melis. Bab Bimbi a Bordo è uno dei pochi progetti regionali dedicati ai bambini e al loro mondo letterario. Arrivata la settima edizione il tema del festival di quest'anno sarà concentrato sulla libertà, eloquente il titolo Liberarsi liberando. Il progetto nasce da un gruppo di genitori che pensano che sia importante, hanno pensato che fosse importante per i loro ragazzi dedicarsi alla lettura e quindi incentivare la lettura per rivitalizzare un territorio come poteva essere il Medio Campidano e poi per capire, capendo che in fondo è importante la lettura a tutti i livelli, dai bambini agli adulti fino ad arrivare agli insegnanti, quindi avere delle occasioni di incontro anche per la scuola. Anche in questa edizione artefici dell'iniziativa sono sempre loro i bambini che hanno curato i vari aspetti del progetto. Noi stiamo cercando di fare un passo oltre, il nostro festival vuole identificarsi anche come festival proprio curato dai bambini e da ormai due anni una parte degli incontri di presentazione dei libri e degli autori è proprio curata dai bambini, cioè sono loro che fanno le presentazioni. Abbiamo oltre il direttore scientifico Mara Durante che cura tutto il festival, un direttore scientifico junior che si occupa di coordinare, di essere ponte tra gli adulti e i bambini. Imponente la struttura dell'appuntamento con tante proposte interessanti, una giostra culturale che soddisfa non solo i bambini ma anche gli adulti. Il festival è organizzato in laboratori, presentazioni e incontri collettivi. Le presentazioni e gli incontri di formazione sono tenuti sempre dagli autori, dagli scrittori o formatori di importanza nazionale e internazionale, mentre la parte dei laboratori è in parte curata direttamente dagli scrittori e illustratori e in parte è curata da operatori del settore specializzati che accompagnano i ragazzi alla scoperta di libri, testi e immagini legati ai libri stessi e alle storie. L'appuntamento a Guspini dal 30 agosto al 1 settembre, la festa dedicata alla letteratura organizzata dall'Associazione Culturale in Coro, che con questa proposta vuole mettere ancora una volta l'accento sull'importanza della trasmissione alla lettura. L'esempio è la cosa più importante, per cui l'appoggio sia morale che dare la testimonianza è fondamentale. Vedere un adulto che legge, un bambino per emulazione farà la stessa cosa. Se un adulto non legge, è disinteressato alla cultura o è disinteressato al rispetto degli altri, avrà un bambino che sarà disinteressato alla cultura e disinteressato al rispetto per gli altri. Proseguiamo con le iniziative che fioccano numerose in tutto l'Interland, ma in tutta la Sardegna. Questa volta è il Tattoo Festival che prende avvio proprio oggi al Setter Hotel e rimarrà aperto per alcuni giorni. Alessandra Dari. Oggi parte la dodicesima edizione della Cagliari Tattoo Convention e alle 15 apriamo le porte e partiamo subito con la serata del rap, a tema rap, che vedrà come ospite principale Ernia e il DJ di Gwepe Kenya stasera. Mentre nelle sale interne i tatuatori lavoreranno dalle 15 fino alle 21. Ininterrottamente avremo tantissimi tatuatori come l'anno scorso, nazionali, internazionali, che lavoreranno su tutti gli stili. Vedremo poi il risultato più a mano di questi lavori la domenica quando ci sarà il contest. Tutti potranno partecipare, sia chi si è tatuato all'interno della convention, chi all'esterno. I temi saranno sempre i soliti, saranno i tre. Mentre domani, il sabato, avremo il piacere di vantare la partecipazione dei Satanic Surfers, che sono una band svedese, padrini del punk rock. Sono attivi fino agli anni 80. Ad aprire il loro concerto saranno i padrini di Cagliari, che è una band punk rock di Cagliari, e i sangue che vengono da Olbia. Per quanto riguarda la domenica, invece, oltre il contest, avremo la performance di Carlotta Zumner e il suo gruppo, che metteranno in atto lo spettacolo di Alice in Wonderland in stile Tim Burton. Ci aspettiamo, insomma, una grossa partecipazione. Speriamo che vi piaccia tutto. Avrete la possibilità di mangiare, di cenare, di prendere un gelato, di prendere una birra. Qui abbiamo organizzato praticamente qualsiasi cosa per quanto riguarda il food and beverage. E ci vediamo, insomma, qua. Cagliari, i suoi misteri, non stiamo parlando dei misteri dell'attualità, ma quelli del passato, in alcune visite guidate tra i sotterrani e le parti meno conosciute della città in questo servizio. Questa è una delle tante cripte che costituiscono il patrimonio della città di Cagliari. Siamo in Piazza Sansepolcro e questa è proprio la cripta di Piazza Sansepolcro, dove c'è la chiesa omonima. E questa chiesa sarà proprio uno dei passaggi di una manifestazione che adesso presenteremo e che vedrà protagonisti, gli operatori di Sardegna Sotterranea, che solitamente portano il pubblico verso la scoperta di nuove zone da esplorare, siti incredibili da raccontare. E questa volta il tour, invece, è diverso perché si parla di misteri, e sono i misteri della Cagliari Sotterranea. Con noi c'è Bruno Casanova, appunto, di Sardegna Sotterranea. Sì, noi di Sardegna Sotterranea, come tutti gli anni, facciamo questo tour cosiddetto del mistero, dove appunto porteremo alla luce e cercheremo di far conoscere alla gente gli aspetti diciamo più misteriosi delle zone storiche di Cagliari, come in questo caso questa bella chiesa del Santo Sepolcro, che sono pieni di storie, di superstizione anche a volte, superstizione che però ha delle fondamenta di verità, e che quindi noi vogliamo, appunto, cercare di scoprire insieme alle persone che verranno al nostro tour, che si svolgerà questa sera, partendo dal bastione, alle ore 20, per i prenotati naturalmente al nostro numero di telefono. Un sito suggestivo, questo del Santo Sepolcro, che tra l'altro, stando, e si dice, in superficie nella parte prospicente delle scalette di Sant'Antonio, avrebbe anche addirittura una ruota degli esposti, dove le persone andavano a depositare i figli quando non potevano tenerli e quindi esisteva una sorta di convento. Quali sono gli altri misteri di questa zona? In questa zona è piena di misteri, perché questa è una zona che, appunto, fin dall'antichità era una zona, questa, destinata, dove siamo proprio adesso, destinata alle sepolture. Quindi, proprio in questo sito dove ci troviamo adesso, all'inizio degli anni 90, addirittura è stata scoperta, proprio in questa cripta, fino alla parte alta, un'immensità di, una vastità di ossa umane, che appunto risalivano al precedente, prima dell'editto di Costantino, che viettò la sepoltura all'interno degli edifici ecclesiastici e che obbligò a seppellire al di fuori delle chiese. Quindi le storie di questa zona sono tantissime, storie di fantasmi, per chi ci crede, leggende, e poi le cosiddette mazinas, ha detto non sardo, le fatture, ha detto in lingua italiana. Ed è questo appunto che verrà approfondito dalla guida che si occuperà domani di questo tour che, come molti sapete, è Marcello Polastri, studioso, giornalista, scrittore, che da anni si occupa di queste ricerche, porta le persone per queste visite ed essendo anche lui un appassionato cultore di questo, saprà riportare appunto tutta la sua conoscenza. Oltre alla cripta di Sansepolcro c'è anche un tour, giusto, che parte da qua ma poi andrà ancora avanti per altri siti cagliaritani. Ok, questo tour, naturalmente, la partenza, come dicevo prima, sarà dal bastione e cammin facendo, passando dalla via Manno, si narrerà la storia anche delle chiese che purtroppo sono state, che ormai non esistono più, come la chiesa di Santa Caterina, che è dove all'attuale Zara. Ora la chiesa di Santa Caterina si trova sotto Montiurpinu, che è una delle chiese simbolo della Cagliari di un tempo, che fu purtroppo distrutta dai bombardamenti. Poi si scenderà appunto verso il Santo Sepolcro, si farà la visita qui all'interno e ci saranno varie tappe dove ci saranno delle soste e ci saranno delle spiegazioni appunto fatte da Marcello, ma per questo non vi vorrei svelare troppo altrimenti vi starei a raccontare tutto il tour. Sono raccomandate scarpe da tennis, almeno da tennis con buona suola e niente, questo è l'unica cosa, è anche abbigliamento comodo visto che per durare del caldo, abbigliamento comodo e se volete anche una bottiglietta d'acqua non fa mai male. Adesso è un spazio alla pubblicità, ci risentiamo tra qualche istante. Arte Insieme è una rassegna a metà tra musica e cultura con teatro e anche esposizione comunica che si tiene ogni anno nello spazio del Bosco di San Gemiliano a Sesto. Con Ignazio Perra, direttore artistico della manifestazione che si terrà a Sesto a partire da oggi a San Gemiliano, cerchiamo di provare a tracciare un circuito di quello che saranno questi tre giorni. Allora, questa manifestazione che si chiama Arte Insieme, appunto dal nome Arte Insieme vuole mettere insieme diverse espressioni artistiche, produttive e diciamo tutto ciò che rientra nel fare e nel saper fare, prevede appunto queste tre giornate, il 23, il 24 e il 25 agosto, che sono organizzate in collaborazione con diverse associazioni, quindi dell'Associazione Tantama, Comitato San Gemiliano, l'Associazione Agno Porrino di Elmas e dal Comune, all'interno di un parco meraviglioso che è quello di San Gemiliano, prevede sicuramente la sinergia di diverse iniziative che hanno lo scopo di essere strumento propulsore delle arti del tempo e dello spazio, quindi dalla canto alla danza alla musica alla recitazione ma anche all'arte del cucinare, all'arte del produrre i dolci, alla vinifecazione, intanto avremo anche degli stand che saranno sinergici e interattivi come l'iniziativa Calici d'Estate, come i produttori di pane, anche coloro che comunque fanno creazioni artistiche di ogni tipo e una delle manifestazioni particolari è appunto quella di stasera che vede un defilé di moda intercalarsi con l'arte del canto, della danza e della recitazione con artisti sia di livello regionale ma anche locale che portano avanti questa sinergia artistica espressiva. E con i successivi giorni sino a domenica? Allora intanto i successivi giorni ci sono altre iniziative tipo sempre chiaramente le esposizioni che fanno da contorno ma anche Summer Show che prevede appunto questa gara d'estate con tutti i ragazzi ma anche altri talenti. Per esempio nella giornata diciamo del 23 c'è anche la presenza di Luca Martelli che è il batterista dell'Itfiba, poi avremo altri spettacoli che comunque coinvolgono anche diversi gruppi locali, associazioni locali e in particolare anche una grande manifestazione dedicata alle colonne sonore del cinema dove vedremo protagonisti diversi artisti anche della lirica a livello regionale. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Prima di Zona Franca vi ricordiamo lo spettacolo di Geni Gnocchi per la rassegna forma e poesia nel jazz di Cabaret al Parco che si svolge a Sarroc e esattamente a Villasiotto alle 21.30. E adesso Zona Franca vi racconta la seconda parte della storia di Andrea, un giovane sdea rotelle che chiede l'elemosina in via 20 di settembre, una storia di vita da ascoltare con attenzione. Grazie a tutti! Come è il mondo delle persone che vivono facendo l'aracquesta, che vivono per strada chiedendo i soldi? Dipende, dipende da come ti comporti tu più che altro, capito? Se sei rispettoso, se stai a capire la gente anche tu, bene, se invece stai lì a mandarli a fare un culo o comportarti male, eh, non ottieni niente. Cioè devi avere anche un certo aspetto, secondo me, non puoi farti vedere tra zandato, cioè bene o male poi, cioè si capisce uno per cosa gli usa i soldi. tutti i semafori hanno un personaggio che più o meno staziona, ma esiste anche una sorta di organizzazione che magari manda per strada i bambini, qualcuno dice zingari, qualcuno dice invece falsi, invalidi. Esistono queste cose? Delle zingari sì, ne ho visto bambini chiedere delle mosine. C'è una cosa che a me da fare troppo fastidio. Cioè vai tu padre o tu madre a chiedere i soldi, non mandare il bambino nei tavolini. Esiste anche un racket dell'accattonaggio? Boh, a me non mi è mai successo che mi chiedessero qualcosa. Questo succede più a Roma, a Milano, un posto così dove proprio ti chiedono un tot al giorno se vuoi lavorare in quel semaforo. Capito? Però qui in Sardegna bene o male non c'è questa storia. C'è qualcuno che se gli occupi la posizione si arrabbia? Beh, ognuno ha il suo posto alla fine. Anche io mi arrabbieria se mi prendessero il posto. Cioè ognuno alla fine c'è il suo posto e quindi bene o male si sa qual posto è di Cristian, qual posto è di Luca. Quindi non vai neanche a... Poi è successo, qua a me è successo di avere dei litigi con persone che sono arrivate e volevano stare qua. Vero? Ma tu hai anche un reddito di cittadinanza per esempio? Non l'ho preso. Non l'hai preso? Sto facendo le pratiche però... E' una pensione? Sì, 283 euro. Il resto lo devi fare per strada? Eh, a Maroglia. Sennò non vado a nessuna parte. Quanto ci vuole per vivere? Dipende. Con quanto puoi vivere? Anche con 20 euro al giorno puoi vivere alla fine. Cioè bene o male te la capi. Quindi le tue cose, la spesuccia, le cose per il cane. Cioè bene o male già si riesce ad andare avanti. C'è una situazione provvisoria la tua? Lo spero. Lo spero. Spero che trovare un lavoro e potermi sistemare del tutto. La città com'è con la disabilità? In mezzi pubblici. Tu come fai per i trasporti? Ah, per i mezzi pubblici è un po' un discorso... dipende anche dagli autisti, da come vedono davvero la tua disabilità. Se la capiscono, proprio bene o male riesco ad abbattere le belle architettoniche. Però ce n'è davvero tante. Non è una città sicuramente a norma la nostra. Un po' di tempo fa tu mi chiedevi di aiutarti proprio nel rapporto con i mezzi pubblici. Sì, perché molti autisti sono bravi, ok. Poi ci sono sempre quella parte, capito, che non ti mette la pedana, che si lamenta perché gliela fai scendere, ok. Oppure non si avvicinano come devono, glielo dici prima ovviamente, di avvicinarsi al marciapiede. Ma loro come se l'hanno sentito, capito? Non è che posso volare ogni volta. Magari gli chiedi di metterti la pedana perché... e si lamentano. Alla fine c'è la normativa europea. Però, ripeto, non sono tutti per fortuna così. Io abbastanza segnalazioni ne ho fatto, anche alla CTM. Poi, nello specifico, alla fine non lo so cosa sia successo alle persone che sono state segnalate. Marco, siamo in conclusione dell'intervista. Così, non provocatoriamente, assolutamente, ma ti metto una frase sul tavolino. La vita? L'ho detto, è un bel fiore. Bisogna sapere come prendere le spine. Bisogna o mettersi i guanti o sapersi curare bene le ferite che ti vengono da quella rosa. Però rimane sempre un bel fiore da vivere. Belle frasi toccanti. Grazie per averci seguito. L'appuntamento è per stasera. Arrivederci. L'appuntamento è per stasera. L'appuntamento è per stasera.